Questa intervista esclusiva che vi proponiamo ora con Sergio Paini, corrispondente da Mosca. Ascoltate le parole di Claudio Marchisio dallo Zenit, San Pietroburgo. Nel suo destino città di teste coronate, due ex capitali Torino e San Pietroburgo, lì dove il principino è già diventato uno zar. Nella mata Juventus non trovava più spazio, così è stato lo Zenit a spalancargli le braccia. E in Russia Claudio Marchisio ha ripreso a giocare con continuità e anche a segnare gol, come oggi decisivo per la vittoria contro l'Ahmat e sempre in una squadra in vetta alla classifica. Il mio obiettivo è arrivare alla fine dell'anno e di alzare almeno un trofeo, perché ho voglia di vivere sempre quelle emozioni, ho voglia di vivere le sensazioni che ti regala una vittoria. Vorresti anche tornare in nazionale? Sicuramente, ma quello aspetta soltanto me. Se ci sarà una chiamata in futuro sarò ben felice di indossare di nuovo la maglia azzurra. Una vita in bianco-nero però ti segna per sempre, soprattutto se hai iniziato a sette anni e con quella maglia hai vinto ben sette scudetti consecutivi. Quattro giorni fa l'ex numero otto non ha dimenticato di fare gli auguri alla vecchia signora per il suo 121esimo compleanno. Cosa provi quando vedi i tuoi ex compagni giocare? Li seguo sempre, poi sono ritornato ad essere un tifoso della Juventus. È normale che poi c'è anche la parte affettiva con dei miei ex compagni che sento tuttora e che li vedo comunque soffrire, impegnarsi in ogni partita, che lo spirito è sempre quello giusto. E quindi da tifoso giuventino sono contento che quell'anima lì è sempre viva. Ti dispiace di non poter giocare con Cristiano Ronaldo? No, sono sincero perché ho giocato con tantissimi campioni, ho avuto la fortuna di allenarmi un po' di tempo con lui e mi è bastato poco per capire il professionista che è oltre al grande campione. Ti aspettavi l'addio di Marotta? Non me lo aspettavo in questo momento, però sono rapporti che comunque nel mondo del calcio come nel mondo del lavoro e della vita finiscono. L'unica cosa che posso dire è che lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per me in questi anni e gli auguro un futuro sempre da vincente. Forse non è più il tempo delle bandiere nel mondo del calcio contemporaneo? Il mondo del calcio rispecchia poi anche il mondo odierno. Il mondo odierno va velocissimo, i cambiamenti ormai sono all'ordine del giorno. L'importante è che quando ci siano i cambiamenti non si vada a creare dei danni. Grazie.